Siamo a Sigep 2020, Rimini, allo stand di Pulicaffe con Gianfranco Carubelli, amministratore di Asachimici. Intanto qualche parola su Asachimici. Benissimo, Asachimici, storica azienda del settore detergentistico per la caffetteria, in quanto nasce nel primo dopoguerra da mio papà, che ho ancora in azienda e sono felicissimo, e tratta principalmente, ha creato principalmente quello che è necessario per la conduzione di una macchina del caffè, cioè il detergente per pulire la macchina del caffè, in quanto tutte le preparazioni, tutti i cibi che noi andiamo a cucinare nelle nostre pentole, prima di partire con la cucina dobbiamo essere certi che la padella sia pulita. Per cui noi siamo riusciti ad avere questo aggancio nei tempi e tempi addietro, siamo partiti con la vecchia faema che oggi è stata assorbita da cimbali, eccetera, e abbiamo acquisito in questo caso una capacità, una conoscenza della problematica pulizia molto molto importante per noi. Da questo poi siamo arrivati ai giorni nostri, praticamente non cambiando tanto packaging o magari nomi, eccetera, ma la formulazione, cioè la ricetta che sta nei nostri prodotti, in quanto il prodotto chimico di 30 anni fa non è più uguale a quello che c'è oggi. Oggi siamo attenti molto all'environmentale, cioè a tutto quello che ci circonda, anche come sicurezza e per l'ambiente. Per questo abbiamo creato anche una linea verde, noi chiamiamo verde, in quanto li reputiamo tensiottivi molto, non tanto più degradabili degli altri, sono sempre degradabili intorno al 98%. Il vantaggio è che sono ricavati da fonti rinnovabili, per cui secondo noi è un aiuto grandissimo che diamo poi al nostro ambiente. E a Sigeb 2020 quali sono le novità che avete portato? Per Sigeb noi siamo sempre in trasformazione in quanto prodotto chimico, ogni periodo dell'anno abbiamo delle innovazioni, in quanto l'industria che fa magari le raw materie, le materie prime per l'autonomasia, è in continua ricerca. Noi abbiamo questo compito di studiare e scegliere in mezzo a un alfabeto di materie prime, cercare la lettera giusta affinché il nostro prodotto sia consono alla macchina che dobbiamo pulire. Perché non dimentichiamoci, la macchina di caffè è la macchina che raggiunge i 115 gradi in caldaia, lavora a 90 gradi, 93 gradi per regalarci con la magnifica bevanda che noi conosciamo, e poi ha 9 atmosfere al suo interno, cioè ha una pressione molto alta, per cui è una condizione molto particolare, non è un classico pavimento da poter pulire.